La sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture prima di tutto, così il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha annunciato l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza del ponte della Ferriera, un intervento di oltre 600 mila euro. Un'altra bella notizia per la nostra città, la volta scorsa abbiamo annunciato degli interventi di messa in sicurezza rispetto al rischio idrogeologico, oggi invece abbiamo annunciato questo intervento di messa in sicurezza su una delle strutture storiche e direi anche più strategiche per ciò che concerne la mobilità in città. Siamo soddisfatti del lavoro svolto sia dal punto di vista progettuale sia rispetto all'esecuzione dei lavori che è pronta a partire. La protezione della struttura con nuove barriere laterali inevitabilmente alzerà il livello di sicurezza del ponte teatro anche di recente e di drammatici gesti estremi. Era un intervento atteso non solo per la messa in sicurezza sismica e statica ma anche per quello che lei ha ricordato, questi tristi episodi che abbiamo registrato nei mesi scorsi e attraverso questo lavoro comunque riduciamo questo rischio. Ovviamente serve anche un intervento di carattere sociale, di prevenzione, interventi ai quali stiamo lavorando, ma nel frattempo non ci distraiamo rispetto alle questioni strutturali.